Oh! Speravate di attivare questo sigillo, non è vero? Troppo tardi! Krotus è arrivato prima di voi! Oh, ma dai, non è mai tardi per divertirsi! La gialla negativa! Oh! Sto assorbendo il mio potere dal vento! Esatto! L'energia del vento ha un sapore delizioso! Typhon, devi andartene subito! Stai solo rendendo Krotus più forte! Non riesco a muovermi! Ragazzi, sono bloccato anch'io! Sono bloccato! Anch'io? Krotus assorbirà tutta l'energia che Aaron concentra su Typhon! Dobbiamo interrompere il contatto! Era squisita! Ragazzi, muovetevi! Muovetevi! Oh, mi piacerebbe muovermi davvero! No, arrestate! Krotus mi schiaccerà a piccoli insettini fastidiosi! Allora, Krotus, volevi energia? Vediamo se riesce a prendere questa! Tempesta di meteori! Voggello oscuro! Dove ha preso tutti questi poteri? C'è anche Krotus! Salve, guardiani! Sembrerebbe proprio che vi abbiamo circondati! Prisma scura! Prisma scura! Riff, attento! Ma chi ti prende? Devo concentrarmi su Urik! No! Poveri gormiti! Era il vostro guardiano quello? Che tragedia! Adesso chi si concentrerà sulla vostra energia? Ultima chance per arrendervi, gormiti! A questo punto dovreste realizzare che noi Darkan siamo destinati a regnare su Gorm! Non mi hai ancora sconfitto! Spero che Riff e Icord tornino presto! Io non mi illuderei troppo, testa vuota! Un mio regalo per loro! Gormiti!